Io ho voluto lanciare questo messaggio sui social perché stando qui in Trentino, qui al nord, dove la situazione è molto più grave, ho visto gente che va a correre tranquilla, gente che fa scampagnate. Vicino a casa mia, al parco della Caffarella, vedevo le storie su Instagram, mi sembrava Pasquetta, insomma, capisci che non è proprio carino vedere queste cose. E in più era un annuncio rivolto alla zona mia a San Giovanni e quello che voglio dire è di restare a casa, di essere un po' più responsabili, più altruisti, ai ragazzi di non sentirsi invincibili come mi sentivo io, Si è interrotto il collegamento ma non importa